Il Consiglio Comunale di Alassio tornerà a riunirsi lunedì a partire dalle 11, ma questa volta la seduta non sarà come le altre. Si tratterà infatti di un consiglio monotematico dedicato alla messa in sicurezza e qualità delle infrastrutture autostradali e ferroviarie. Una riunione insomma, come già fatto in provincia Imperia, per porre l'accento sulla disastrosa situazione in cui versa la Liguria e il Ponente in modo particolare e lanciare un grido di allarme e al tempo stesso una decisa richiesta al governo per cambiare questo stato di cose. Alassio è una delle città più belle della riviera e fra quelle sicuramente di maggior richiamo turistico e oltre alle continue interruzioni su strade e ferrovie ha subito e subisce i danni del maltempo e delle mareggiate senza la garanzia di fondi sufficienti per porre in essere misure e durature di contrasto a queste situazioni. Da qui la volontà dell'amministrazione comunale Alassina di alzare la testa e far sentire una voce forte che dal territorio possa raggiungere regione e soprattutto governo affinché si intervenga finalmente in modo concreto sul territorio.